Castello Pignatelli di Monte Roduni, il luogo più indicato per ospitare un importante forum sul rilancio turistico e agroalimentare della provincia di Isernia. In un momento in cui la crisi economica sembra non lasciare alcuna via d'uscita, turismo e agricoltura ecocompatibile possono essere delle valvole di sfogo, delle risorse aggiuntive per debellare il dramma della disoccupazione giovanile. E l'area della provincia di Isernia più vocata a questo modello di New Economy sembra essere proprio quella di Monte Roduni. È un territorio benedetto ma vocato per una caratteristica ed una peculiarità unica credo nel Molise e a livello oserei dire nazionale. Noi basti pensare ancora abbiamo un territorio che viene irrigato per scorrimento, è una pratica tradizionale usata nella notte dei tempi che si ricorda del Medioevo, regolamentata in un certo modo, già questo è un principio di biologicità dei prodotti. Ci sono i giovani che tornano all'agricoltura, soprattutto perché questa agricoltura di qualità dà anche dei buoni risultati. Certo, e credo che sia anche l'unica via possibile e percorribile per uno sviluppo e per creare reddito sul territorio e quindi ai giovani. Oggi parliamoci chiaro, non c'è prospettiva alcuna in nessun altro settore e i dati stanno lì a dimostrarlo. Il settore dell'agroalimentare e agricolo in particolare è l'unico settore che crea occupazione e crea reddito ancora oggi sui nostri territori e in Italia. E c'è un imprenditore che partendo proprio da Monte Roduni sta facendo fortuna all'Italia e all'estero. Si tratta del proprietario delle cantine Valerio e dell'oleificio Pignatelli, che si sta imponendo su tutti i mercati per i suoi prodotti di nicchia di qualità documentata, vino ed olio. Senza dubbio l'Alta Valle del Volturno e questo territorio, il territorio Pentro, ma anche tutto l'intero Molise con le sue diverse peculiarità, e oggi può rappresentare un'offerta nuova nel campo alimentare, straordinariamente nuova e soprattutto di qualità. Corio Pignatelli, che è un nome prestigioso, insomma, che cosa le ha portato i riscontri, soprattutto come immagine Valerio, all'estero e in Italia? Il brand, il nome di Pignatelli è conosciuto in Italia ma anche all'estero perché si parla di una delle famiglie nobiliari più antiche in assoluto e quindi ha una notorietà di fatto, quindi ha un ritorno d'immagine molto alto perché poi tra l'altro nel campo agricolo è una delle prime famiglie che ha operato in campo agricolo, la propria attività agricola risale al 1669 che coincise con la trasformazione del castello da dimora militare a dimora civile, e quindi il ritorno d'immagine sull'acquisizione dell'azienda è stato di grande valore.